Domani mattina le nostre tre camere porteranno ancora una volta nelle vostre case in diretta la celebrazione dalle ore 10 della Santa Messa di Pasqua nel solenne pontificare del mattino dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduto dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, una Pasqua di Risurrezione che come segno particolare porta quest'anno in dono anche l'attesa per la visita di Papa Francesco prima a Venezia e poi nelle altre terre del nord-est Verona e Trieste. Che Pasqua è per lei, per Venezia e anche per il suo arrivo del Santo Padre tra pochi giorni? È una Pasqua come le altre perché celebriamo tutti gli anni la gioia della Risurrezione, è una Pasqua diversa da tutte le altre perché attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro. Nella Basilica di San Marco domani è facile attendersi tra i turisti fedeli da varie parti del mondo, per questo alcune preghiere saranno recitate in più lingue. Ma una Pasqua che non può prescindere dal desiderio di pace e dal delicato momento internazionale che stiamo vivendo, come lo stesso Patriarca ha ricordato qualche giorno fa all'infiorata nel piazzale ferroviario di Santa Lucia. Bisogna pensare la pace quando si è ancora in pace e Venezia è questo simbolo tra Oriente e Occidente. Le sue chiese, i suoi edifici, la sua storia parlano di questa capacità di unire l'Oriente all'Occidente. Un Deorigo in De Salus. L'origine è un sì di una donna. Appuntamento dunque su Antenna 3 con tutti voi domani mattina dalle ore 10 dalla Basilica Cattedrale di San Marco. L'Oriente all'Occidente. L'Ocridente all'Occidente. L'O�� confуска DFATA. L'Ottore dei fai controllo le delle ore 10 da indone.